Vai dietro, queste saranno le parole di tutto il viaggio, Teddy vai dietro! Quindi si può entrare in Austria? Così dicono, siamo arrivati in Austria, siamo andati a fare un giro a Innsbruck, adesso andiamo in autostrada in direzione Germania. L'aggiornamento della Germania, la strada è lunghissima, mamma mia, non finisce un po'. Stiamo in Danimarca. Frontiera passata. Hai visto prima? Sì, là è dove c'è la strada chiusa. Ecco, ve l'ho detto che quando guido io è meglio, il semaforo è rosso, non si può vedere, ma aspetta, bisogna che vi giri per farvi vedere. Cosa vuoi mangiare? La rosticiana. La carne, la carne. La carne, la carne, la carne, la carne. Non funziona. Sì, è successa. O che sembra Norvegia così? Da un paese a un altro così senza frontiere? Io mi aspettavo...glielo so... controlli massicci. Comunque siamo in Norvegia! Allora siamo venuti a comprare i chiodi per le scarpe perché in realtà si batte i denti qui fuori, tutto completamente viaggiato e eventualmente parlano a me la gente che non capisco, non intendo perché non so neanche una parola, niente, zero Andiamo Teddy con le scarpine, forza! No, poverino! Bravo! Vai, gira ancora? No, adesso va alla posizione però Fede sei pronta a prendere il traghetto? Ti va con una paura Africa dentro e Norvegia fuori È troppo caldo dentro Guarda come sa la guada lui, oh siamo a dieci chilometri dal circolo polare artico però c'è il rischio che il piazzale sia chiuso quindi ci fermiamo qua siamo così sorry can i ask a question but the road for going to narvic is closer from from this we need to come back back and the same for the boat thank you bye teddy corri si Eccola! Direzione Caponorte! Direzione Caponorte! Buongiorno! 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 Perfetto! Tutto a destra e buon viaggio! Grazie! eccoci siamo partiti abbiamo incontrato ragazzi avete visto e ora loro si porteranno a vedere un po' di posti come si deve ecco qua inizia già a cambiare il manto stradale un po' come piace a noi no? qua dove siamo come zona? Renna di Matteo, Vignola, Santa Teresa comunque noi stanotte dormiamo qua vedete che spettacolo dove ci porti oggi allora? allora oggi facciamo oggi risaliamo dal mare andiamo al Monte Limbara passiamo dal Tempio carichiamo di nuovo quello che c'è da caricare e poi vi faccio vedere le montagne di Tempio perfetto va bene? vai giusto Stefano ogni dieci anni vero il zucchero viene raccolto? si dai sette a dieci anni dipende dalla pianta quindi quello sopra perché non è bagno? quello sotto non è buono quello sotto ci sono persone lui adesso cresce lui in sette anni qua fa spessore e poi fa levato qua in lavorazione si e mi diceva che ci vogliano persone comunque qualificate perché c'è un attrezzo che devono scavare intorno alla pianta per andare a prendere da sotto facendo attenzione però a non danneggiare la pianta tutto lì va bene e comunque io la parte facile però ci vuole una gran concentrazione anche qui ma vabbè questo è facile noi Dario quindi lo sistemiamo e ti faccio massimo e riprendi? ma vabbè dai io ci fai però il commento dai almeno sono scesi bene dai sono sceso da paura da paura i solo Non mi sbagliare venire davanti, c'è proprio nulla. Ok, adesso vieni davanti. Territorio di Torgalli, territorio di Olena. Questa è l'antica demora del pastore. Viene chiamata Zupinnetto. Quindi, come diceva Giuseppe, correggimi se sbaglio, che nelle giornate di pioggia, abbondante, che comunque interessano tutta questa parte del sopravvento, l'acqua che penetra comunque nella montagna, questo è l'unico punto dove poi esce. E' questa cosa che ci si può vedere. E' questa cosa che ci si può vedere. E' questa cosa che ci si può vedere. Ok. Andiamo a vederla. Sì, andiamo a vedere. Punta. Punta. Un po' la parola. Un po' la parola. Il corrasi. Il corrasi. Comunque è bellissimo, è pieno di frasi. Pieno di frasi. Prasi anche importanti. Sì. Vediamo questa. Pieno di frasi. Pieno di frasi. Pieno di frasi. Sì. Sono stata brava o no? Eh? Non va a far bagno oggi. Quindi, amore, siamo qua, facciamo Cagliari, poi scendiamo giù, Chia, Pula, poi dobbiamo risalire per Iglesias, volevamo non perderci anche dentro Cagliari. Ok. Grazie a tutti. Siamo lavati, ora siamo tutti all'asciugo, qui sotto scettetti. Allora, a posto migliori per salutarci non ci potevano portare. Guardate le nostre spalle, meraviglia, lo stato duro! Io vi do anche destra. E dai abbiamo sbagliato. Si dice si va al mare, ma c'è le pecore, però qui c'è pieno da tutte le pare. Teddy, vieni! Metti la zampina dentro! A me dispiace andare via, sinceramente, perché mi sono trovata bene. Però è una rivederci. Vorrei dire che ho scoperto una terra che a me piace particolarmente, sia per le persone, ma anche per quello che offre il posto. E sicuramente la Sardegna ha tanto da offrire e noi abbiamo visto solo una piccolissima parte. Quindi vuol dire che dobbiamo tornare e tornare e tornare. E tornare. Sì, e comunque aspettiamo a braccia aperte da noi, tutte le persone che ci sono state vicine in questo periodo. Teddy, vieni a questo culone. Scusate, eh! Vieni a questo culone. Via, mettiamo la censura. No, poi comunque... Aspettiamo tutti a braccia aperte a casa nostra. Certo. E niente. E nulla. E noi cerchiamo poi, però. Via, alla prossima. Ciao!